Cinque di spade, ecco la carta pescata per questa settimana, una settimana che ci vede in linea con delle energie particolari perché forse hai provato a discutere fino alla fine difendendo la tua idea e mandando avanti la tua opinione perché dentro di te e anche fuori di te sai di aver ragione, però nel canalizzare l'energia in questo modo forse ti stai dimenticando che indipendentemente dalla ragione oppure dal torto perderai comunque d'altronde devi iniziare a chiederti che cosa vuoi veramente se vuoi veramente vincere la discussione perché ti fa sentire figo e pronto a comandare su qualcuno o su qualcosa allora va benissimo, manda avanti questo tipo di discorso ma se capisci che discutere, confrontarsi o combattere a volte nasconde un risultato sul lungo termine gravoso, brutto, disastroso che è quello di incrinare i rapporti con gli altri e allora lì devi capire che vuoi fare, che vuoi raggiungere forse la tua voglia di aver ragione sta esasperando il rapporto beh capisci se vuoi portare armonia al rapporto o se vuoi aver ragione capisci che esiste una sorta di bene armonioso che è più grande del semplice traguardo che puoi vivere nel momento presente allora, senti a me, se non vuoi sentire a me perché ti sto antipatico senti i tarocchi, 5 di spade a volte il prezzo pagato per raggiungere la vittoria non vale il valore della vittoria stessa ecco perché questa settimana lavoriamo con la domanda buttata là come posso trovare armonia oltre il diverbio apparente mi raccomando, se questa carta, il modo in cui questa settimana te l'ho palesata non dovesse entrare in frequenza con te puoi sempre cliccare il link nell'info box dove troverai tantissimi altri significati ti potrai lanciare nell'analisi simbolica e soprattutto vedere due o tre domande in relazione all'arcano che ti permettono di lavorare da te amico mio ci vediamo domani per il tiraggio della settimana con il quale personalizzerò le frequenze di questo arcano iscriviti al canale grazie a tutti